Lezione 1. Saluti e auguri. Ciao Anna, spero che tu stia passando una splendida giornata. Hey John, grazie. Auguro anche a te una fantastica giornata. Grazie. A proposito, hai mai provato a imparare l'inglese attraverso le canzoni? Sì, ce l'ho. È divertente e aiuta con il vocabolario. Hai qualche canzone inglese preferita? Sicuramente. Mi piace ascoltare canzoni pop. Hanno melodie orecchiabili e testi semplici. Questo è vero. Qualche consiglio? Che ne dici di ShapeView di Ed Sheeran? È popolare e facile da seguire. Sembra fantastico. Lo ascolterò. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con qualche testo. Ciao Anna, vuoi pranzare dopo? Ciao John, sembra un'ottima idea. Perfetto. Che ne dici di provare quel nuovo ristorante di sushi in centro? Oh, adoro il sushi. Conta su di me. Fantastico. Ci vediamo lì alle tredici? Suona bene. Ci vediamo lì. Ottimo. Non vedo l'ora. Anch'io. Grazie per averlo suggerito. Nessun problema. È un piacere. Lezione 3. Aggiornamento dei dispositivi. Ciao Anna. Penso che dovremmo aggiornare i nostri dispositivi. Sono obsoleti e lenti. Ciao John. Sono d'accordo. È il momento di fare un upgrade. Cosa suggerisci? Ho sentito che il nuovo modello di smartphone è più veloce e ha una fotocamera migliore. Sembra promettente. Che mi dici dei laptop? I laptop più recenti hanno più memoria e una maggiore potenza di elaborazione. Buono a sapersi. Dovremmo visitare il negozio di elettronica a questo fine settimana? Sì. Andiamo a controllare le opzioni disponibili. Ottimo. Possiamo confrontare prezzi e caratteristiche. Esattamente. È importante trovare il miglior rapporto qualità-prezzo. Grazie per aver sollevato la questione. È davvero il momento di fare un upgrade. Siete i benvenuti. Rimaniamo all'avanguardia con i nostri nuovi dispositivi. Lezione 4. Assistenza di viaggio. Ciao Anna. Mi scusi, potresti aiutarmi con i bagagli? Ciao John. Ovviamente. Sarò lieto di aiutarti. Grazie mille. È piuttosto pesante. Nessun problema dove sei diretto? Vado a fare un viaggio a Parigi. Non vedo l'ora. Oh, Parigi è una città bellissima. Divertitevi. Grazie. Hai qualche consiglio di viaggio? Sicuramente. Fai le valigie e porta una buona mappa. Questo è un consiglio utile. Lo terrò a mente. Mi assicurerò di concedermi prelibatezze francesi. Lezione 5. Esplorazione subacquea. Ciao Anna. Hai mai fatto immersioni subacquee? Ho sentito che vedere la vivace vita marina sarebbe magico. Ciao John. Sì. Ho fatto immersioni subacquee alcune volte. È incredibile. Sembra incredibile. Che tipo di vita marina hai visto? Ho visto barriere coralline colorate, pesci tropicali e persino tartarughe marine. Wow. Deve essere stata un'esperienza mozzafiato. Assolutamente. È un ecosistema così vario e affascinante. Le immersioni subacquee sono difficili da imparare? Richiede un po' di formazione. Ma ne vale sicuramente la pena. Sono davvero tentato di provarlo ora. Dovresti. È un'avventura che non dimenticherai. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Lo apprezzo. Lezione 6. Inganno creativo. Salve Anna. Come possiamo evitare i sospetti? Possiamo distrarli organizzando un evento falso. Ciao John. È un'idea interessante. Che tipo di evento? Organizziamo una festa a sorpresa per il compleanno del nostro amico. Potrebbe funzionare. Come facciamo a mantenerlo segreto? Possiamo spargere voci su una festa diversa nello stesso giorno. Intelligente. Ciò distoglierà la loro attenzione. Che mi dici delle decorazioni? Possiamo decorare un luogo diverso per confonderli. È subdolo ma divertente. Abbiamo bisogno anche di esche convincenti. Possiamo chiedere ad alcuni amici di comportarsi come se stessero partecipando al falso evento. Geniale. Renderà la sorpresa ancora più sorprendente. Dobbiamo solo assicurarci che il nostro amico non lo scopra. Concordato. Manteniamo segreti i nostri piani fino al grande giorno. Grazie per il brainstorming con me. Sei un ottimo collaboratore. Lezione 7. Condivisione delle ricette. Ciao Anna. Ho appena preparato questo fantastico piatto di pasta. Vuoi la ricetta? Ciao John. Certo. Sono sempre pronto a provare nuove ricette. Ottimo. È una semplice pasta al pomodoro e basilico. Ecco come. Grazie. Sono pronto a prendere appunti. Per prima cosa, cuoci la pasta fino a renderla al dente. Capito. Cosa c'è dopo? Mentre la pasta cuoce, soffriggete dell'aglio in olio d'oliva fino a doratura. MMM. Ha già un profumo delizioso. Quindi aggiungete i pomodori a cubetti e lasciate cuocere a fuoco lento per qualche minuto. Sembra abbastanza facile. Che mi dici del basilico? Tritate le foglie di basilico fresco e aggiungetele alla salsa poco prima di servire. Gnam. Qualche condimento specifico? Sì, cospargete di sale, pepe e un pizzico di peperoncino in scaglie. Perfetto. Come si fa a finirlo? Scolare la pasta, condirla con il sugo e guarnire con parmigiano grattugiato. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per averlo condiviso. È un piacere. Buon appetito. Lezione 8. Avventure di shopping Ciao Anna. Insieme sono sicuramente entusiasta di andare a fare shopping. Esploriamo il centro commerciale. Ciao John. Assolutamente. Non vedo l'ora di trovare ottime offerte e abiti eleganti. Sembra fantastico. Quali negozi dovremmo visitare per primi? Cominciamo con i grandi magazzini. Hanno una vasta selezione di abbigliamento. Ottima idea. Sto cercando un nuovo paio di jeans. Qualche consiglio? Certo. Diamo un'occhiata alla sezione denim. Hanno vari stili e dimensioni. Perfetto. E ho bisogno anche di una camicia nuova. Qualche suggerimento in merito? Che ne dici di provare una camicia abbottonata? È versatile e può essere indossata in modo elegante o elegante. Suona bene. Li terrò d'occhio. Che mi dici degli accessori? La prossima volta visitiamo il negozio di accessori. Hanno articoli alla moda come cinture e cappelli. Eccellente. Mi servirebbe una nuova cintura. C'è altro che dovremmo cercare? Se sei interessato, possiamo esplorare il negozio di scarpe per delle calzature comode. Sembra un piano. Grazie per essere il mio compagno di shopping. Nessun problema. È sempre divertente fare shopping insieme. Godiamoci la nostra giornata. Apprezzo il tuo entusiasmo. Sfruttiamolo al meglio e troviamo delle fantastiche scoperte. Assolutamente. Buon acquisto e grazie per avermi invitato. È un piacere. Grazie per esserti unito a me. Rendiamo memorabile questo viaggio di shopping. Lezione 9. Piani per il fine settimana. Ciao Anna. Ho un'idea. Dovremmo organizzare un weekend. Ciao John. Sarebbe meraviglioso. Quando posso decidere? Puoi decidere in qualsiasi momento prima del mese prossimo. Ottimo. Scegliamo una destinazione. Spiaggia o montagna? Sono aperto a entrambi. Cosa preferisci? Adoro la spiaggia. Quindi andiamo con quella. Sembra perfetto. Ci godremo il sole e la sabbia. Dovremmo prenotare un hotel o cercare una casa vacanza. Cerchiamo un accogliente appartamento in affitto sulla spiaggia. Eccellente. Inizierò a cercare opzioni online. Una volta trovato un posto, possiamo pianificare le nostre attività. Che ne dici di fare snorkeling? Prendere il sole e giocare a beach volley? Queste attività sembrano fantastiche. Conta su di me. Grazie per averlo suggerito. Sono emozionato. È un piacere. Sarà un viaggio memorabile. Lezione 10. Aggiornamento dei piani di viaggio Ciao Anna. Volevo tenerti aggiornata sui miei piani di viaggio. Ciao John. Certo. Dove pensi di andare? Ho deciso di visitare il Giappone per le mie vacanze. È eccitante. Quando hai intenzione di andare? Ho intenzione di andare in primavera l'anno prossimo. La primavera è un bel periodo per visitare il Giappone. Sì. Non vedo l'ora di vedere i ciliegi in fiore. Hai già preso accordi specifichi. Non ancora. Sto ancora cercando voli e alloggi. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli. Lo farà. Apprezzo il tuo aiuto. Lezione 11. Valutare la situazione Ciao Anna. Dobbiamo tornare indietro adesso? Penso che sia sicuro andare avanti. Ciao John. Valutiamo prima la situazione. Qual è lo stato? La tempesta sembra essere passata e il cielo si sta schiarendo. Questo è un buon segno. Le strade sono libere e accessibili? Sì. Ho verificato con le autorità. Le strade sono di nuovo aperte. Ottimo. Che ne dite di eventuali pericoli nell'area? Al momento non ho sentito parlare di rischi significativi. Sembra che sia sicuro continuare il nostro viaggio allora. Sono d'accordo facciamo le valigie e rimettiamoci in viaggio. Grazie per averci tenuto informati. La sicurezza prima di tutto. Assolutamente. Procediamo con cautela e godiamoci il viaggio. Apprezzo la tua vigilanza. Sfruttiamo al massimo la nostra avventura. Grazie. Sono lieto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lezione 12. Ordinare al ristorante. Ciao, Anna. Sì, vorrei delle patatine fritte, per favore. Notato. Ciao, John. Posso offrirti altro? Che ne dite di un cheeseburger con lattuga e pomodori? Certo. Un cheeseburger con lattuga e pomodori. Capito. Puoi aggiungere anche un contorno di insalata di cavolo all'ordine? Certo. Un contorno di insalata di cavolo. Qualcosa da bere? Prendo una cola, per favore. E cosa vorresti? Vado a prendere una limonata. Per favore. Grazie. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Lezione 13. Prenotare un taxi per un volo. Salve, Anna. Si consiglia di prenotare un taxi almeno due ore prima del volo. Ciao, John. Questo è un buon consiglio. Lo terrò a mente. Sì, consente ritardi o traffico imprevisti. Devo prenotare il taxi online o chiamare un servizio locale. Suggerisco di chiamare un servizio locale per comodità. Assicurati di fornire loro i dettagli del tuo volo. Bene. Dovranno conoscere l'ora e il terminale. È meglio avere una prenotazione confermata. Assolutamente. Non voglio rischiare di perdere il mio volo. Grazie per avermelo ricordato. Lo apprezzo. Ciao, Anna. Mantienimi motivato e aiutami a rimanere coerente. Ciao, John. Questo è un buon approccio. Farò del mio meglio. A volte trovo difficile rimanere in pista. È normale avere alti e bassi. Non essere troppo duro con te stesso. Apprezzo la tua comprensione e il tuo supporto. Un modo per rimanere coerenti è fissare obiettivi raggiungibili. Questo ha senso. Cercherò di suddividerli in compiti più piccoli. Festeggia i tuoi progressi lungo il percorso. Ti mantiene motivato. Questo è un ottimo consiglio. Mi assicurerò di riconoscere i miei successi. Un'altra idea è entrare a far parte di una comunità o di un gruppo di supporto. Mi piace l'idea. Stare con persone che la pensano allo stesso modo può essere fonte di ispirazione. Circondarsi di positività può fare una grande differenza. Grazie. Il tuo consiglio significa molto per me. Lezione 15. Sostenere la qualità del lavoro. Ciao Anna. E la qualità del nostro lavoro? Non dovremmo scendere a compromessi su questo. Ciao John. Hai assolutamente ragione. La qualità dovrebbe sempre essere una priorità. Dovremmo puntare all'eccellenza in tutto ciò che facciamo. L'attenzione ai dettagli e la completezza sono fattori chiave. È importante fornire il nostro miglior lavoro per mantenere la nostra reputazione. Non dovremmo mai accontentarci della mediocrità o prendere scorciatoie. Il miglioramento continuo dovrebbe essere la nostra mentalità. Cercare feedback e imparare dagli errori può aiutarci a crescere. Riteniamoci responsabili della qualità del nostro lavoro. Assolutamente. Dovremmo essere orgogliosi di ciò che produciamo. Grazie per aver sottolineato l'importanza della qualità. È fondamentale. Insieme supereremo le aspettative. Apprezzo il tuo impegno. Alziamo l'asticella. Lezione 16. Pianificare una vacanza. Ciao Anna. Sembra fantastico. Mi servirebbe davvero un po' di sole e relax. Quando sei? Ciao John. Ho intenzione di andare il mese prossimo. Vuoi partecipare? Sembra allettante. Dove pensi di andare? Sto considerando una destinazione balneare nei Caraibi. Sembra un paradiso. Quanto tempo hai intenzione di rimanere? Sto pensando a una vacanza di una settimana per il massimo relax. Sembra perfetto. Conta su di me. Ottimo. Possiamo esplorare le attrazioni locali e goderci la spiaggia. Non vedo l'ora di prendere il sole e rilassarmi. Sarà una meritata pausa per entrambi. Grazie per avermi invitato. Lo apprezzo. Nessun problema sarà un viaggio divertente e memorabile. Sono grato per l'opportunità. Sfruttiamolo al meglio. Lezione 17 Scegliere verdure sane Ciao Anna. Verdi. È una scelta salutare. Hai un. Ciao John. Sì. Ho una verdura verde preferita. Che cos'è? Sto cercando nuove opzioni. Adoro gli spinaci. È ricco di sostanze nutritive e versatile. Gli spinaci sembrano buoni. Come lo prepari di solito? Lo faccio soffriggere spesso con aglio e olio d'oliva o lo aggiungo alle insalate. Sembra delizioso. Ci proverò. Un'altra ottima opzione è il cavolo nero. È sostanzioso e nutriente. Come posso incorporare il cavolo nero nei miei pasti? Puoi preparare patatine di cavolo nero o aggiungerle a frullati e zuppe. Sono idee creative. Farò esperimenti anche con il cavolo nero. Non dimenticare i broccoli. È un altro verde nutriente. I broccoli sono ottimi. Qualche suggerimento per cucinarlo? La cottura a vapore o la tostatura dei broccoli ne esalta i sapori. Lo terrò a mente. Grazie per i suggerimenti. Siete i benvenuti. Goditi le tue verdure salutari. Lo farò. Lo facciamo con un pasto nutriente. Lezione 18. Il dono del giardinaggio. Ciao Anna. È incredibile quanto possa essere gratificante il giardinaggio. È davvero. Ciao John. Non potrei essere più d'accordo. Il giardinaggio è un dono che possiamo. Ci permette di entrare in contatto con la natura e di assistere alle sue meraviglie. Assolutamente sì. Guardare le piante crescere e fiorire porta gioia. Sto pensando di creare un giardino tutto mio. Qualche consiglio? Inizia in piccolo con piante facili da coltivare come erbe aromatiche o pomodori. Sembra gestibile. Di cosa ho bisogno per iniziare? Avrai bisogno di un buon terriccio, vasi o un piccolo appezzamento e semi o piantine. Raccoglierò le provviste necessarie e inizierò a piantare. Ricordati di innaffiare e prenderti cura delle tue piante regolarmente. Mi assicurerò di fornire loro l'attenzione di cui hanno bisogno. Il giardinaggio insegna anche la pazienza e la perseveranza. Sono entusiasta di vedere i frutti del mio lavoro a tempo debito. È un meraviglioso viaggio di crescita e apprendimento. Grazie per avermi ispirato ad avviare il mio giardino. Lezione 19. Trovare le risorse disponibili. Ciao Anna, ci aiuti a trovare le informazioni così bene? Sì, certo, fammi verificare se sono disponibili. Ciao John, sono lieto di poterti aiutare. Cosa stai cercando? Ho bisogno di trovare workshop disponibili sulla fotografia. Questo è un grande interesse. Fammi cercare online per te. Grazie, apprezzo il tuo aiuto. Ho trovato un seminario di fotografia la settimana prossima. Vuoi partecipare? Sembra perfetto. Per favore iscrivimi. Certo, ti iscriverò subito al workshop. Sono entusiasta di imparare e migliorare le mie abilità fotografiche. È una fantastica opportunità per sviluppare la tua passione. Grazie ancora. Ci arrivi sempre. È un piacere per me. Sono qui per supportarti. Ti sono grato per il tuo aiuto. Sei incredibile. Grazie e goditi il seminario e divertiti. Lo farò. Sei il migliore. Lezione 20. Salvaguardare gli effetti personali. Ciao Anna. L'importanza degli effetti personali. È frustrante perderli mentre... Ciao John. Capisco perfettamente. Cosa è successo? Ieri ho perso il portafoglio. Non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte. Questo è stressante. Hai ripercorso i tuoi passi? Sì, ho controllato tutti i posti che ho visitato, ma senza fortuna. Hai provato a contattare i luoghi in cui sei andato? Non ancora. Dovrei chiamarli e chiedere informazioni sul mio portafoglio. Questa è una buona idea. Potrebbero averlo trovato. Lo spero. Perdere carte e documenti importanti è una seccatura. È sempre meglio essere cauti e tenere al sicuro gli effetti personali. Hai ragione e sarò più attento in futuro. Inoltre, considera la possibilità di conservare i backup dei documenti importanti. Questo è un suggerimento intelligente. Ne farò anche delle copie digitali. È un ulteriore livello di protezione per i tuoi oggetti di valore. Grazie per il consiglio. Lo apprezzo. Nessun problema spero che trovi presto il tuo portafoglio. Anch'io. Grazie per il supporto. Lezione 21. Personalizzare il tuo alloggio. Ciao Anna. Certo, quali sono le tue preferenze per il tuo alloggio? Ciao John. Preferisco una stanza accogliente con luce naturale e un letto comodo. Sembra adorabile. Che ne dici della location? Vorrei che fosse situato in posizione centrale, vicino ai servizi e ai trasporti pubblici. Ottima scelta. Hai in mente un budget specifico? Sto cercando qualcosa di economico ma pulito e ben mantenuto. Comprensibile. Ci sono servizi indispensabili per te? Una connessione OneFive affidabile e un bagno privato sarebbero l'ideale. Notato. Vorresti soggiornare in un hotel o prendere in considerazione altre opzioni? Sono aperto anche ad alternative come pensioni o case vacanza. Questo amplia le possibilità. Per quanto tempo resterai? Circa una settimana. Quindi qualcosa con una comoda procedura di check-in. Lo terrò a mente durante la ricerca di un alloggio. Grazie, il tuo aiuto è molto apprezzato. Nessun problema voglio assicurarmi che tu abbia un soggiorno confortevole. Sei molto gentile. Sono fortunato ad averti come amico. Il sentimento è reciproco. Abbi cura di te e goditi il viaggio. Lezione 22. Prepararsi con le copie. Ciao Anna, avanzare è importante. Hai portato delle copie di... Ciao John. Sì, ho portato delle copie di tutti i documenti necessari. È una mossa intelligente. È sempre utile avere dei backup. Assolutamente. Non sai mai quando potresti averne bisogno. Hai fatto delle copie del passaporto e della carta d'identità? Sì, ne ho più copie nella borsa e in hotel. Ottimo modo di pensare. È una precauzione di sicurezza che tutti dovrebbero prendere. Ho anche delle copie digitali salvate sul mio telefono e sulla mia e-mail. Questo è ancora meglio. È comodo e accessibile. Ho imparato dalle esperienze passate e ora sono più preparato. È sempre meglio essere proattivi ed evitare problemi. Grazie per aver condiviso i tuoi suggerimenti. Sono preziose. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. La tua attenzione ai dettagli è encomiabile. Lo apprezzo. Grazie. È importante prendersi cura l'uno dell'altro. Hai ragione. Siamo un'ottima squadra. Grazie ancora. Lezione 23. Scegliere la cintura giusta. Ciao Anna. Penso che una cintura nera di media larghezza sarebbe perfetta. Ciao John. Sono d'accordo. È una scelta versatile che si abbina bene a molti outfit. Assolutamente. È un accessorio classico e senza tempo. Che materiale preferisci per la cintura? Mi piacciono le cinture in pelle per la loro durata e stile. Le cinture in pelle sono una scelta popolare. Aggiungono un tocco di eleganza. Questo è vero. Inoltre, tendono a durare più a lungo. Hai in mente uno stile specifico di fibbia? Preferisco un design semplice ed elegante con fibbia. Penso che sarebbe fantastico. Ha un aspetto pulito e moderno. Grazie per il tuo contributo. Apprezzo il tuo senso della moda. Nessun problema. Mi piace discutere delle scelte di stile. È sempre utile avere una seconda opinione. Sono lieto di aver potuto aiutare. La moda è tutta una questione di espressione personale. Hai ragione e i tuoi consigli sono preziosi. Grazie ancora. Lezione 24 Cooking Delight Spaghetti alla carbonara Ciao Anna, qual è il tuo piatto preferito da preparare? Ciao John. Mi piace fare gli spaghetti alla carbonara. È Delizioso. Puoi condividere la ricetta con me? Certo. È un piatto di pasta semplice ma saporito. Quali sono gli ingredienti chiave della carbonara? Avrai bisogno di spaghetti, uova, pancetta o pancetta, parmigiano e pepe nero. Sembra abbastanza facile. Come si cucina? Per prima cosa, cuoci la pasta fino a renderla al dente. Quindi friggi la pancetta fino a renderla croccante. E la salsa? In una ciotola separata, sbatti insieme uova, formaggio e pepe. Quindi, combina tutto. Qualche consiglio per renderlo ancora più gustoso? Assicurati di condire velocemente la pasta calda con il composto di uova per creare una salsa cremosa. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per averlo condiviso. Lezione 25. Consumatori attenti all'ambiente. Ciao Anna. Sì, i consumatori stanno diventando più consapevoli del loro impatto ambientale. Ciao John. È vero. Le persone sono più consapevoli della sostenibilità ora. È bello vedere questo cambiamento positivo nel comportamento dei consumatori. Assolutamente. Le persone stanno facendo scelte più ecologiche nella loro vita quotidiana. Hai notato tendenze specifiche nei prodotti ecologici? Sì, c'è una crescente domanda di articoli riutilizzabili come bottiglie d'acqua e borse della spesa. È fantastico. Aiuta a ridurre gli sprechi e il consumo di plastica. Molte aziende ora offrono anche alternative ecologiche. Questo è incoraggiante. È importante che le aziende diano priorità alla sostenibilità. Sicuramente. I clienti apprezzano e supportano i marchi attenti all'ambiente. Ci sono altri modi in cui i consumatori fanno la differenza? Sì, alcuni scelgono veicoli elettrici per ridurre le emissioni. È una scelta intelligente. Aiuta a combattere l'inquinamento atmosferico. Anche il riciclaggio e il compostaggio sono pratiche popolari. È stimolante vedere le persone assumersi la responsabilità per l'ambiente. Assolutamente. Ogni piccola azione conta per un futuro più verde. Grazie per aver discusso di questo argomento. È importante diffondere la consapevolezza. Ciao Anna. Qualche consiglio per una splendida vacanza al mare? Ciao John. Ti suggerisco di visitare le Maldive. È un paradiso tropicale. Sembra incredibile. Cosa lo rende speciale? Le Maldive offrono spiagge di sabbia bianca incontaminate e acque turchesi cristalline. Wow! Ci sono isole specifiche che mi consigliate? Suggerirei di esplorare Maafushi o Bora Bora per la loro bellezza mozzafiato. Ci sono attività acquatiche da provare? Sicuramente. Puoi fare snorkeling, immersioni subacque o provare il paddleboard. Sembra molto divertente. Ci sono piatti locali da provare? La cucina maldiviana offre deliziosi piatti a base di pesce come tonno al curry e garudia. Mi sta già venendo fame. Che ne dite degli alloggi? Ci sono resort di lusso e accoglienti bungalow sulla spiaggia tra cui scegliere. Sembra perfetto per una vacanza rilassante. Grazie per il suggerimento. Lezione 27. Comunicazione efficace. Ciao Anna, hai qualche consiglio su come strutturare le mie risposte e fornire esempi concreti? Ciao John, sicuramente. Inizia con un'introduzione, poi sostieni i tuoi punti con esempi chiari. Questo ha senso. Come posso garantire un buon contatto visivo durante le conversazioni? Mantieni il contatto visivo con la persona con cui stai parlando ed evita di distogliere lo sguardo troppo spesso. Lo terrò a mente. E se avessi bisogno di riflettere prima di rispondere? Va bene dedicare un momento a raccogliere i tuoi pensieri. Basta evitare lunghe pause. Capisco. Come posso rendere più concreti i miei esempi? Usa dettagli specifici e situazioni reali per illustrare i tuoi punti. Quindi, invece di dire mi piacciono gli animali, posso dire ho un cane da compagnia di nome Max? Esattamente. Gli esempi personali rendono le tue affermazioni più vivide e riconoscibili. Capisco l'importanza di fornire esempi concreti ora. Grazie. Ciao Anna, non sono sicuro di come ottenere un risultato positivo. Qualche idea? Ciao John, capisco. Chiediamo assistenza al personale dell'ufficio informazioni. Buona idea dovrebbero essere in grado di aiutarci. E se non conoscessero la risposta? Se non lo sanno, potrebbero indirizzarci a qualcuno che lo fa o fornisce soluzioni alternative. Questo è rassicurante. Come possiamo rivolgerci educatamente al personale? Inizia salutandoli e spiegando la situazione con calma e rispetto. E se abbiamo bisogno di ulteriori chiarimenti o assistenza? Fai gentilmente domande di follow-up per assicurarci di comprendere appieno le loro indicazioni. Capisco. È importante mantenere un atteggiamento positivo e paziente, giusto? Assolutamente. Essere cortesi e pazienti può portare a risultati migliori. Grazie per la tua guida. Ora mi sento più fiducioso. Lezione 29. Beach Fashion Vibes Ciao Anna, hai visto dei modelli specifici per il beachwear? Ciao John, sicuramente. Che ne dici di un bikini a vita alta? È trendy e lusinghiero. Sembra interessante. Ci sono altre scelte popolari? Anche i costumi da bagno interi con ritagli e motivi vivaci sono di moda. Che mi dici degli accessori? Qualche consiglio? Un cappello a tesa larga, occhiali da sole oversize e una borsa da spiaggia possono completare il look. Capisco. Quali colori sono popolari in questa stagione? I colori vivaci e audaci come le tonalità del corallo, del turchese e del neon sono di tendenza. È bello saperlo. Che ne dici di calzature per la spiaggia? Infradito. Sandali o persino scarpe d'acqua sono opzioni comode per la sabbia. Lo terrò a mente. Grazie per i consigli di moda. Lezione 30. Procedura di checkout senza intoppi. Salve Anna. Sai se ci saranno costi aggiuntivi per il checkout posticipato? Ciao John. Posso chiedere informazioni per te. Fammi parlare con la reception. Sarebbe fantastico. Si prega di chiedere se è prevista una commissione e qual è l'importo. Certo. Cercherò le informazioni per te. È importante chiarire in anticipo. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto per risolvere questo problema. Nessun problema. È sempre bene affrontare in anticipo eventuali addebiti. Assolutamente. Voglio evitare sorprese al momento del checkout. Capisco. Mi permetta di confermare i dettagli con lo staff. Faranno chiarezza. Aspetterò la tua risposta. Grazie ancora per avermi aiutato. Lezione 31. Stai andando in gita? Ciao Anna. Resta buongiorno. Stai andando in gita? Ciao John. Sì. Sto programmando una vacanza. Ho bisogno di una pausa dal lavoro. Sembra eccitante. Dove pensi di andare? Sto considerando una destinazione balneare. Un posto con sole, sabbia e relax. Sembra meraviglioso. Hai deciso un luogo specifico? Sto pensando di visitare un'isola tropicale. È una destinazione da sogno per me. È fantastico. Per quanto tempo hai intenzione di rimanere lì? Ho intenzione di rimanere per circa una settimana. Sarà una bella vacanza. Viaggiate da soli o con qualcuno? Vado con un gruppo di amici. Sarà un viaggio divertente e memorabile. Sembra un'ottima idea. Hai già prenotato il tuo alloggio? Sì. Abbiamo prenotato una villa fronte mare. Sarà fantastico. Sono sicuro che lo sarà. Hai in programma qualche attività? Abbiamo intenzione di rilassarci sulla spiaggia, provare gli sport acquatici ed esplorare la cultura locale. Sembra una vacanza perfetta. Spero che vi divertiate moltissimo. Grazie, lo trarrò al massimo e creerò bellissimi ricordi. Sono felice di sentirlo. Buon viaggio e scattate tante foto. Lo farò. La ringrazio per gli auguri. Condividerò con voi i momenti salienti. Non vedo l'ora di sentirne parlare. Viaggi sicuri. Lezione 32. Apprezzamento dell'arte. Ciao Anna. Hai mai esplorato diverse forme d'arte? Ciao John. Sì. Trovo l'arte affascinante. È un modo bellissimo per esprimere la creatività. È bello sentirlo. Quali forme d'arte ti piacciono di più? Apprezzo le varie forme. Ma mi piacciono particolarmente la pittura e la fotografia. Sono scelte meravigliose. Cosa ti piace della pittura? Adoro il modo in cui i dipinti possono evocare emozioni e raccontare storie attraverso colori e pennellate. Questo è vero. E cosa ti attira la fotografia? La fotografia cattura momenti nel tempo e può trasmettere visivamente messaggi potenti. Sono d'accordo un'altra forma d'arte che mi piace è la scultura, specialmente quando è in spazi pubblici. Le sculture possono aggiungere un tocco unico all'ambiente circostante e renderlo più interessante. Assolutamente. Ogni forma d'arte ha il suo fascino e il suo significato. È così vero. È incredibile come l'arte possa essere interpretata in modo diverso da ogni persona. L'arte ha davvero il potere di ispirare e provocare il pensiero. Lo fa davvero. Credo che tutti possano trovare qualcosa in cui risuonare nel mondo dell'arte. L'arte apre nuove prospettive e ci permette di apprezzare la bellezza in diversi modi. Ben detto. Continuiamo a esplorare e apprezzare l'arte in tutte le sue forme. Assolutamente. Ecco come abbracciare la creatività che ci circonda. Lezione 33 Ascolto attivo Ciao Anna. L'ascolto attivo è fondamentale. Usiamo questa strategia nella nostra prossima conversazione. Ciao John. Sono completamente d'accordo. L'ascolto attivo ci aiuta a capire e a connetterci meglio. Assolutamente. Implica concentrarsi completamente sull'oratore e fornire la nostra totale attenzione. Giusto. È importante evitare le distrazioni e impegnarsi veramente nella conversazione. L'ascolto attivo implica anche il riconoscimento e la risposta alle parole dell'oratore. Assolutamente. Sì, mostra rispetto e incoraggia un significativo scambio di idee. Esattamente. Possiamo usare tecniche come annuire, mantenere il contatto visivo e porre domande chiarificatrici. Queste tecniche dimostrano che siamo sinceramente interessati a ciò che l'oratore ha da dire. Ascoltare attivamente significa anche evitare interruzioni e consentire a chi parla di finire i propri pensieri. Sì, è importante essere pazienti e dare agli altri lo spazio per esprimersi pienamente. Ascoltando attivamente, possiamo comprendere diverse prospettive e costruire relazioni più solide. È così vero. Favorisce l'empatia e crea un ambiente di comunicazione positivo. Pratichiamo l'ascolto attivo nella nostra prossima conversazione e sosteniamo le idee degli altri. Sono assolutamente d'accordo. L'ascolto attivo migliorerà la nostra comprensione e renderà la nostra conversazione più fruttuosa. Grazie apprezzo il tuo impegno nell'ascolto attivo. Facciamo del nostro meglio. Lezione 34. Creare contenuti coinvolgenti. Ciao Anna. Sicuramente possiamo creare contenuti coinvolgenti per le piattaforme. Ciao John. Sono d'accordo. I contenuti coinvolgenti catturano l'attenzione del pubblico e lo mantengono interessato. Esattamente. Dovremmo concentrarci sulla produzione di contenuti informativi e divertenti. Questa è la chiave. È importante fornire valore e rendere i nostri contenuti piacevoli da consumare. Possiamo utilizzare tecniche di narrazione per rendere i nostri contenuti più riconoscibili e coinvolgenti. Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di incorporare elementi visivi ed interattivi nei nostri contenuti. Le immagini e l'interattività rendono i contenuti più dinamici e coinvolgenti. È importante comprendere il nostro pubblico di destinazione e adattare i contenuti ai loro interessi. Conoscere il nostro pubblico ci aiuta a creare contenuti che risuonino con loro. Dovremmo incoraggiare la partecipazione del pubblico e rispondere ai loro commenti e feedback. Interagire con il nostro pubblico crea un senso di comunità e rafforza il nostro rapporto con loro. Facciamo un brainstorming di idee e collaboriamo per creare insieme contenuti interessanti. Ne sono entusiasta. La nostra collaborazione porterà nuove prospettive e creatività. Grazie a prezzo il tuo entusiasmo. Creiamo qualcosa di straordinario.